Ciao a tutti ragazzi, sono Corridon, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento This War of Mine, il gioco da tavolo, edito in Italia dalla Pendragon Game Studio, che io ovviamente ringrazio di cuore e grazie ai ragazzi per avercene fornito una copia per la recensione. Parto col dire, ma poi tanto lo vedrete nel corso del video, che questo, per me di tutti i giochi che ho visto, trasposizione dal videogioco al gioco da tavolo, forse, forse in assoluto, è la trasposizione migliore, che ho visto finora l'adattamento migliore ed è veramente un gioco per tutti gli amanti di This War of Mine. Quindi, detto un parole povere, se avete apprezzato da morire il gioco per il computer, il gioco indie per il computer, dovete assolutamente prenderlo e non vi deve mancare nella libreria perché è un gioco bellissimo e che rappresenta nella maniera migliore in assoluto This War of Mine. Ma partiamo con l'unboxing, così ve lo mostro. Intanto scatola anche questa di dimensioni molto contenute, quindi trasportabile tranquillamente, per quanto il peso, non scherzi, si faccia sentire. Vedete il gioco della Pendragon, Game Studios, e ragazzi è This War of Mine, quindi non penso ci sia bisogno di altre presentazioni. Apriamola. Libro delle storie, ma l'oppone disumano, con all'interno quasi 2000 linee narrative. A date lo apro, ci sono tutti i capitoli divisi per numero, numerati da 1 fino quasi a 2000, e sono tutti quanti dialoghi e situazioni che potrete trovare nel gioco, perché ricordo che This War of Mine è un gioco dalla narrativa, secondo me, al 90% del gioco, eccellente. Bustine, al solito per mettere token e altre cose. Fogliettini, schedine, per segnare tutte quante le vostre azioni e per tenere conto magari dei punti ferita, delle situazioni. Potete giocare tranquillamente anche senza, però tenere conto con queste cose qui vi sarà sicuramente più facile. Stampateveli, perché prima o poi finiscono e ricordano un po' le schede di HeroQuest. Avventura introduttiva, quindi tranquillamente, questo gioco, una cosa che ho apprezzato da morire, appena vi arriva a casa e lo spacchettate, non prendete nemmeno il regolamento per leggerlo. Davvero, è l'unico che vi dice, vi guida passo per passo. Voi vi fate una partita leggendo direttamente quello che c'è scritto qui, e dalla seconda partita in poi sapete già giocare. Non avete nemmeno letto il regolamento. I token, parti di arma, fatica, fame, punti ferita, equipaggiamento vario, caffè, assi di legno, erbe, medicine, insomma, this war of mine, ragazzi, tutte le cose che potete trovare in gioco, token del freddo e altro. Mappa di gioco, bella grande, prendete tutto il tavolo, tranquilli, tanto a breve vi faremo vedere le regole di una partita. Pezzi di vetro, parti metalliche e assi di legno. Bellini, sono proprio rappresentati, non soltanto un disegno su una carta, ma ci sono proprio fisicamente. Pedine. Vari dadi per i combattimenti, tipo arma bianca, arma da fuoco, corpo a corpo e poi l'altro, quello nero, per le ferite. Carte dei residenti, quindi chiunque potrete incontrare durante le vostre avventure. Carte, risorse, macerie, stanze, porte, insomma, tutto quello che dovrete liberare nel vostro rifugio, piano piano, andando avanti nella partita. Carte ride notturni, che subirete, proprio come nel gioco. Schede dei personaggi, con il valore di coraggio, empatia, pose nell'inventario e ovviamente anche abilità speciali. E bellissime, e non potevano mancare, le miniature dei vari personaggi. Questo è l'unboxing. Passiamo ora con la partita. All'inizio della partita dovrete scegliere tre o quattro personaggi, il manuale vi dice di usarne tre, ma ne potete tranquillamente usare anche quattro. Li andrete a pescare dal mazzo dei personaggi e ricordatevi sempre, nel caso siano tre, di pescarne due con il bordo nero e uno con il bordo rosso, perché quello con il bordo rosso sarà sempre il leader del gruppo. Prendete le tre miniature corrispondenti ai tre personaggi scelti e le posizionate in questa zona iniziale della mappa. Poi, se vi ricordate, come anche il gioco per computer, The Sword of Mine, prendete tutte quante le carte da riempire tutto quanto il vostro rifugio. Quindi le carte macerie, le carte mobili, le carte porte, detriti, sbarre e quant'altro, e le disponete dove c'è scritto sul tabellone. Vedete, ad esempio, qui sotto macerie, sotto questa carta macerie, c'è scritto macerie. Quindi voi prendete questa carta e la mettete qua su. La carta mobili è accanto, l'altra mobili, tanto c'è scritto sul tabellone dove metterle. Non vi potete sbagliare. Fatto questo, disponete tutto il resto delle carte, dei mazzi. Tanto il setup di questo gioco è facilissimo, a prova veramente di bambino, perché c'è scritto sotto dove dovete mettere tutti quanti i mazzi. Quindi qui ci va il mazzo dei colori, azioni narrative, fato, miglioramenti, miglioramenti speciali, personaggi, visitatori, obiettivo, capitoli, lassù in cima tanto il regolamento vi dirà come metterli in ordine, e i luoghi da visitare, nonché le carte esplorazione, residenti, ritrovamenti e raid notturni. Le risorse che avete di partenza, di solito sono sempre queste, poi possono anche cambiare, però di solito sono sempre tre pasti crudi, una pala, un grimaldello, quattro parti meccaniche, quattro pezzi di legno e due unità d'acqua. I dadi, rosso per le armi da fuoco, grigio per il corpo a corpo a mani nude, giallo per le armi e l'arma bianca, e nero che è un dado invece che va tirato per gli eventi. Il gioco si divide in quattro turni precisi, che sono il mattino, con tutte quante le azioni diurne, il crepuscolo, che è il momento in cui, ovviamente calando la notte, i cecchini hanno minor visuale, i nostri protagonisti ed eroi usciranno fuori per andare a cercare dentro l'edificio abbandonato e quindi girare per la città, c'è la fase di notte e di raid notturno. Quindi cosa succede invece alla base, a chiunque abbiate lasciata la base, o anche sguarnita, perché la potete lasciare anche sguarnita, quando arriveranno dei visitatori buoni o cattivi, nemici o alleati, a farvi, a trovarvi durante la notte, quindi nella sezione del raid notturno, e poi c'è l'alba, quando i nostri eroi rientreranno dentro al rifugio con tutto quello che avranno trovato durante l'azione di scavenge della notte. Ciascun personaggio può fare tre azioni, tre azioni nella fase del mattino, e queste tre azioni sono le seguenti. Muoversi per la casa non costa un'azione, sarebbe inutile dire, con tutte le ore che ci sono durante la fase del mattino, muoversi e spiegare un'azione. Voi vi potete muovere dove volete, però le azioni da fare durante il mattino sono le seguenti. Quindi andare a cercare dentro un oggetto, quindi in questo caso potrei andare, spostarmi su questa carta come azione, e uso la mia azione per girare e vedere nella carta mobile cosa c'è all'interno. Tutto quello che ci è segnato io andrò a prendere dalla pila degli scarti e la metterò nel magazzino, e questa carta ovviamente verrà rimossa. O se no, con un'altra azione posso andare a rimuovere delle macerie, e le macerie mi dicono, le potete rimuovere usando una pala o le potete rimuovere usando due personaggi. In questo caso noi la pala l'abbiamo nel magazzino, quindi posso prendere il mio personaggio, spostarlo tra le macerie, equipaggiarlo con una pala e sprecare la seconda azione per rimuovere la carta delle macerie e vedere cosa ho trovato sotto. Nel caso invece di una porta chiusa, di una porta sbarrata come questa quassù in cima, il personaggio invece, sempre dalla scorta iniziale, avrà bisogno di un grimaldello e una volta che il grimaldello sarà stato utilizzato per aprire la porta, sarà rotto e andrà scartato. I grimaldelli si possono trovare scavengiando o anche ricostruire, quindi non è un problema. Questa è la prima azione. Altre azioni che posso fare, oltre a muovermi per il rifugio, posso fare anche un miglioramento. Pescare una carta miglioramento dal mazzo col bordo verde, le posso prendere tutte, girarle e sceglierne una da mettere in gioco e costruire. Ovviamente dovete avere le risorse per costruirla, quindi se no non potete fare niente di che, però magari non potrebbe dire voglio costruire una stufa in questa zona che ho già ripulito con un'azione precedente, ho ripulito dalle macerie. Quindi questa è una zona vuota, io prendo una carta miglioramento, guardo cosa c'è dietro, una cucina, potrebbe essere una stufa, un tavolo dal lavoro per costruire armi da fuoco e d'altro, la metto qui e andrò a prendere questo spazio. O altrimenti, come altre azioni, posso prendere due carte miglioramenti speciali e spostarle nel mazzo a miglioramenti normali. Le carte miglioramento speciali vi danno tutto quell'equipaggiamento che vi serve per sopravvivere. Quindi armi da fuoco, medicina, infermeria, lato anche erboristico e tutte le cose che vi servono per sopravvivere, perché questo è un gioco veramente molto difficile. Quindi le azioni da fare la mattina, unicamente all'interno del rifugio, sono queste qua, quelle che vi ho appena descritto. Tanto comunque, anche sullo stesso tabellone c'è scritto tutto quanto, addirittura rovistare vi farà tirare un dado per vedere se trovate qualcosa. La cosa bella di questo gioco, io vi sto facendo un mini tutorial, ma ragazzi non serve a niente, perché sul manuale c'è proprio scritto, è il manuale stesso, le regole che vi dicano giocate mentre le leggete, ed è una figata assurda. E qui finiamo la mattina con l'unica cosa da dirvi che questo è un gioco cooperativo, si possono tenere da 3 a 4 personaggi e si può giocare anche in 3-4 giocatori, però è un gioco particolare, non è che ogni giocatore tiene una pelina, non è che ad esempio io tengo questo e un altro giocatore potrebbe tenere gli altri due. Qui tutti i personaggi si muovono insieme e c'è una regola bellina che dice uno dei giocatori, uno dei player, deve essere incaricato come leader per ogni turno che cambia, quindi alla mattina, al pomeriggio, al crepuscolo, al ride, e ogni volta vi dovete passare la mano e quindi quel giocatore attualmente è diventato il leader e sarà quello che prenderà la decisione finale su quello che i nostri avventurieri dovranno fare. Quindi se tutti ci mettiamo d'accordo che lui deve andare a fare un ride, oppure lui deve andare in città a vedere se trova qualcosa e al leader non piace quella mossa, potrà annullarla e deciderà lui invece chi sarà andare fuori a fare il ride notturno. Allora, arriva la fase del crepuscolo, quindi quando tutte le azioni dei personaggi saranno concluse, arriva la fase del crepuscolo che dice ciascun personaggio presente, ovviamente ancora in vita, deve specare un token di acqua, quindi ciascun personaggio quando arriva la sera deve bere. Quindi verranno levati tot segnalini di acqua, ovviamente di partenza ce n'ho due, ma scavengiando un caso già ne avrei trovati almeno tre o quattro. Comunque, facciamo conto che non soltanto due. Due dei personaggi da me disegnati verranno, e quindi questi due verranno scartati e messi nella pila degli scarti del magazzino, e un altro rimarrà senza bere. Quello che è rimasto senza bere deve prendere il dado nero, che vi dicevo essere il dado da 10 per gli eventi, e tirarlo. Io tiro il dado nero e vediamo cosa succede. È uscito un 10. Il regolamento dice se il risultato è da 1 a 5 aumenta la fame di 1, perché non ha bevuto. Se il risultato è da 6 a 10 aumenta la tristezza di 1. Allora io prendo un token di tristezza a livello 1 e lo metto al personaggio. Di partenza tutti i personaggi hanno un valore di fame di 1, però facciamo conto che si è toccato a Bruno il token tristezza e quindi gli ho messo un valore di tristezza di 1. Arriva la fase della notte, quindi la fase che vi ho detto devono andare a giro dopo aver mangiato a cercare risorse per sopravvivere. A questo punto i personaggi avranno questa possibilità. Bisognerà decidere quale gruppo andrà a fare i ritrovamenti notturni, quindi in questo caso magari potete dire ok, loro due, questi due personaggi vanno a cercare fuori nei luoghi, mentre questo personaggio qui, Bruno, rimarrà in difesa. Le azioni che è possibile fare durante la notte sono mettere un personaggio in difesa, che ovviamente nel caso di un ride notturno, ma lo vedrete successivamente, lui sarà lì a difendere il fortino, oppure potrebbe dormire per terra, può dormire per terra in qualsiasi zona che ovviamente non sia chiusa ancora da macerie, porte chiuse, detriti o cose del genere. Nel caso lui decida di dormire per terra, la fatica del personaggio sarà ridotta a 0, quindi sarà abbassata di 2. Facciamo caso che questo personaggio avesse avuto un valore di fatica di 2, automaticamente sarebbe stato scartato perché lui ha riposato dormendo in terra. Se invece dovesse dormire riposando in un letto e il letto si costruisce con le carte miglioramento, il personaggio invece avrà un refool completo della fatica e anche se la fatica fosse stata a 3 o 4 sarebbe tornata a 0. Nel caso il personaggio sia rimasto di guardia a sveglio, dovete dargli automaticamente un token di fatica, una fatica a livello 1 è normale perché sta sveglia tutta la notte, stessa cosa guadagneranno fatica un token di fatica anche quelli che saranno andati in giro a fare scavenge, a cercare oggetti. Loro due sono all'esterno, quando all'inizio della partita dovete fare il setup, vedete in cima c'è il mazzo dei luoghi, dovete pescare 3 luoghi casualmente e disporli in questi 3 slot che ci sono accanto alla pila dei ritrovamenti. Come vedete accanto ci sono dei numeri 10, 12 e 14. Ora noi mettendoci d'accordo con il leader disegnato in quel momento sceglieremo un punto dove andare a vedere, che in questo caso qui vedete c'è un magazzino, una villa abbandonata e un incrocio del cecchino. Quindi visto che l'incrocio del cecchino come nome non mi piace, andiamo a vedere un tranquillo tra molte virgolette magazzino. La regola ci dice che questo valore accanto è il numero di carte esplorazione che io dovrò andare a pescare per vedere cosa troverò là dentro. Quindi prenderò 12 carte pescandole direttamente dal mazzo esplorazione e mettendole da parte. Ah, ovviamente banale dirvi che me lo sono dimenticato, però prima di partire in perlustrazione dovrete, potrete, ma non per forza anche portarvi dietro dell'equipaggiamento. In questo caso avrei potuto portarmi una pala, un grimaldello, o perché no, se ce l'avessi avuto un coltello o una pistola. Potete mandarle anche a mani nude, tanto comunque si difenderanno, ma magari ecco dargli un equipaggiamento un pochino più potente sarà meglio. E ricordo che ogni personaggio, come vedete sulla scheda, ha dei valori di coraggio, che praticamente gli consente di ritirare un dado per ogni valore che ha, quindi potrebbe ritirare due dadi con un valore di coraggio di 2, un valore di empatia, che invece serva ad altre cose elencate sulle carte, e un valore di inventario. Quindi vuol dire che questo personaggio qui, con questa carta, potrà portare un massimo di peso di 3. E ciascun oggetto, ad esempio prendo la pala, come vedete ha un simbolino nero, con il simbolo di un peso, con il segno di un peso in nero, e un numero bianco al centro, che ad esempio c'è scritto 1, vuol dire che la pala prende uno slot dei 3 dell'equipaggiamento. Quindi se questo personaggio si fosse portato dietro una pala, avrebbe già uno slot preso. Prendete il token rosso, che è l'unico nel gioco, uguale a quello dell'acqua, solo che il rosso, e lo mettete sul valore di rumore più basso, quindi sull'1 laggiù in fondo. Ci saranno delle carte evento o esplorazione che vi diranno di lanciare il dado del rumore, per vedere se, come nel gioco vi ricordate per il computer, se qualcuno vi ha sentito, se c'è un incontro o altro, magari a volte anche un topo che fa il rumore muovendosi, niente di fatto. Comunque, per vedere se avete fallito il check del rumore, dovete, facciamo conto che il rumore sia salito a 3, perché delle carte lo hanno alzato, dovrete sempre, quando vi sarà richiesto dalla carta, fare un tiro sul dado da 10 e se il risultato dovesse essere uguale o inferiore al valore attuale del rumore, dovrete prendere una carta dei residenti, una o due carte residenti, girarle e vedere che cosa succede. Le carte esplorazione dovrete girarle e leggerle una alla volta, per vedere cosa sta succedendo, quindi girate la prima, girate la seconda, girate la terza e questa è la fase più lunga del gioco, perché? Perché dovrete leggere tutte quante queste carte dell'esplorazione che avete trovato e, leggendo ovviamente i colori che ci sono in fondo e i numeri, andare a leggere il relativo paragrafo sul libro delle storie, perché vi ricordo questo è un gioco narrativo quasi al 100%. Nel corso della notte, appunto, quando andrete a cercare equipaggiamento fuori negli ambienti, potrete trovare nuove risorse. Queste risorse verranno sempre messe nella pila dei ritrovamenti, accanto ai personaggi e una volta che dovrete rientrare dalla fase di notte, dovrete scegliere quale di questi oggetti portarvi dietro, ricordandovi del peso, ovviamente in questo caso i due personaggi, complessivo che vi potete portare dietro. Quindi nel caso abbiate 4 slot liberi di peso, potreste prendere ad esempio una pala, 2 cibi crudi e altre cose. Ognuna di queste risorse, invece che vedete qui fisica in 3D, pesa sempre 1. Un pezzo di legno pesa 1, una parte meccanica pesa 1 e così via. Però durante la notte, sempre tramite il mazzo delle eventi e il mazzo dei ritrovamenti, potreste trovare invece dei nemici. Potrebbero uscire dei nemici e quindi dovrete portare avanti un combattimento. Dal mazzo dei nemici, che sono questi token qua, ne metto ad esempio uno qui per farvi vedere, dovrete pescarne uno o più a seconda di quanti la carta dell'evento vi dice che dovete metterne in campo. In questo caso qui c'è uscito uno di livello 0, che ha coraggio 0, quindi non potrà ritirare dadi. Il coraggio serve sempre per ritirare dadi, quindi non ritira dadi e in più, come vedete, con questo bordo grigio e la grigia vuol dire che è disarmato e quindi metto un nemico qua giù. Il combattimento si svolge semplicemente prendendo tanti dadi, quanti sono i personaggi chiamati in gioco e le armi che stanno utilizzando e tirandoli. Quindi in questo caso, se loro due fossero disarmati, io avrei da tirare due dadi grigi. I dadi grigi ci dicono che se escono due pugni ho fatto dei danni, se esce un pugno ho fatto un danno, se esce questo simbolo qua giù strano vuol dire che ho attivato un'abilità speciale o qualcosa comunque collegata all'arma che sto utilizzando o se no posso anche vedere di giocarmi la carta a destino. La carta a fato ovviamente ha sia pro che contro. La carta a fato, che è una di queste qua giù, potrebbe, uno potrebbe dire ok, non ho colpito direttamente ma mi gioco una carta a fato, però dietro la carta a fato a volte c'è da fare un tiro o da leggere delle regole particolari perché magari l'hai colpito e gli hai fatto molti più danni, ma magari invece dietro a questa carta a fato qui non l'hai colpito e lui ha fatto più danni a te. Quindi dipende, è un pochino giocarsela alla fin fine per il bisogno che ha il giocatore in quel momento di difendersi e sopravvivere. Una volta decisi e tirati i dadi che sono in contemporanea toccherà il nemico che anche il nemico disarmato come noi quindi tirerà un dado grigio. Si farà la somma dei danni, nel caso gli abbiamo fatto tre o più danni scalerà ferito, ferito gravemente e morto e ovviamente tutto il resto dei danni invece ci verranno fatti addosso a noi. Nel caso avessimo giubbetti antiproiettili o cose del genere invece i danni potrebbero essere assorbiti dall'armatura, ma non è questo il caso e quindi ciascuno di loro nel caso avesse preso un danno dovrà prendere un token ferita e metterselo accanto sulla scheda. Tipo questi. Fatte i ritrovamenti, finito il raid notturno, insomma con tutti i personaggi che sono stati feriti, sono stanchi o magari sono stati uccisi, dovrete prendere dal mazzo dei ritrovamenti quello che vi interessa portare alla base e il resto invece tornerà nella riserva. Prendete i personaggi e li rispostate dentro la base, però nel frattempo ricordatevi che c'è la parte raid notturno che toccherà all'unico al momento presente in guardia dentro la casa che è Bruno. Raid notturni, mazzo, girate la prima carta e leggete che cosa succede. Questo è quello che succederà durante la notte, la carta dice delinquenti, 4 danni e 4 ferite. Quindi questo cosa vuol dire? Al momento Bruno è disarmato, ma avrebbe potuto avere un coltello, un AK oppure anche semplicemente un ped di porco, però in questo momento è disarmato. Quindi vuol dire che arrivano dei delinquenti a fare il raid e non sempre la notte saranno dei delinquenti o comunque della gente che vi vuole fare del male, poi dipende anche dal manuale narrativo. Quando arriveranno i delinquenti vuol dire che le scorte subiranno 4 danni e i personaggi 4 possibili ferite. Quindi cosa vuol dire? Le ferite vanno direttamente al personaggio. Vi ricordo che in questo gioco ciascun personaggio ha 4 punti vita, al quarto ovviamente muore. O se no, 4 danni, che 4 danni andranno al magazzino e quindi risorse che ci verranno sottratte e rubate. Come per il combattimento, quando si vanno a fare i ritrovamenti sarà la stessa identica cosa, quindi nel caso di Bruno disarmato lui tirerà il suo dado grigio, perché è l'unico che, almeno che non abbia un'abilità speciale che gliene faccia tirare due o più, e invece i delinquenti dovrete sempre contare le ferite di danni, che per un complessivo sono 8. Facciamo caso che Bruno abbia tirato un 1, da questo valore complessivo di 8 potrebbe togliere un punto che diventa 7. Nel caso avesse tirato un 2 avrebbe tolto due punti e sarebbe diventato 6. Mettiamo caso che Bruno abbia avuto fortuna e ha tirato un 2 per difendersi, quindi vuol dire che i delinquenti avranno fatto 6 danni. Di questi 6 danni, Bruno deve decidere dove, di questi 8 danni scusate, dove toglierà il valore di 2. Quindi lui potrebbe dire posso togliere una ferita e un danno, però se tolgo una ferita comunque invece di 3, invece di 4 me ne faranno 3. Quindi Bruno andrebbe direttamente a un valore di ferita di 3, che è il massimo per un personaggio perché poi se dovesse subire un'altra ferita andrà all'epilogo e sarà morto. E quindi lui potrebbe dire provo a subire invece che 3 ferite ne subisco 2, perché già comunque di partenza non ero messo particolarmente bene, quindi levo due ferite e due me le prendo e poi rimangono 4 danni. I 4 danni vanno direttamente nel magazzino. Avendomi fatto queste 4 ferite, io dal magazzino dovrò scartare 4 oggetti perché i delinquenti durante il raid notturno me li hanno rubati. Quindi potrei dire, va bene, il cibo crudo mi serve, scarto questi 4 oggetti qui. Questi qui sono stati rubati, sono stati portati via dai delinquenti e quindi li leverò dal gioco. Arriva la fase dell'alba dove i nostri personaggi rientrano in gioco dalla notte. Ovviamente ricordatevi sempre di dare un token fatica a tutti i personaggi, che il token fatica è questo qua. Quindi sia Bruno che è rimasto sveglio che i loro due che sono rientrati, quindi nessuno ha dormito per farla breve, hanno preso un token fatica e ricordatevi che un token fatica vi preclude un'azione. Quindi se ho un valore di 1 non avrò più 3 azioni ma ne avrò 2, se invece il valore dovesse essere di 2 non avrò più 3 azioni ma ne avrò una. Quindi tutti quanti si beccano un token fatica di 1 e potranno fare in questo momento un'azione in meno. Però loro tornando dal turno di notte che sono andati in giro e danno scavengiato porteranno tutto l'equipaggiamento che hanno ritrovato fuori nel magazzino durante la notte e lo metteranno dentro il loro magazzino. Ragazzi fate velocemente, queste sono le regole del gioco. Poi all'inizio di ogni turno dovete pescare una carta capitolo ed evento per vedere cosa succede, dovete pescare secondo il manuale carte visitatori. Questo è un gioco su cui un tutorial si fa male ma non perché non ci sia niente da spiegare. Le regole alla fine sono poche e fatte bene. Il discorso è che proprio non serve a niente spiegare una partita in questo gioco perché vi basta prendere il regolamento di gioco che vi spiega tutto. Proprio c'è scritto non mi leggere quando l'aprite. Non mi leggere. Vai, prepara il tavolo da gioco, metti giù le pedine, disponi tutte quante le carte, fai il setup iniziale ed è lui che ti guida passo passo. Fatta la prima partita avete già capito come giocare. Quindi non c'è bisogno né di tutorial né di wall true o cose più strane. Ragazzi in conclusione secondo me è un titolo eccellente, è la giusta trasposizione in gioco da tavolo di Sword of Mine che abbiamo adorato veramente quando è uscito su Steam. Secondo me uno dei giochi più difficili e belli comunque allo stesso tempo di titoli indie che sono usciti su Steam almeno inizialmente per PC ed è veramente la trasposizione in gioco da tavolo perfetta invece della parte videoludica. È un gioco facile, anzi facilissimo, facile come regole ed è così che devono essere i giochi. Benedetto che ha inventato HeroQuest dove con due dadi fai tutto e questo è praticamente, forse c'ha un dado in più ma finisce lì, fatto bene. Il giusto numero di token, non ne ha troppi tipo Deep Madness a altri giochi, quindi il giusto numero di token, non c'è coriandoli all'interno come dico sempre io, il giusto numero di regole ma soprattutto facili e dopo la prima partita avete già capito tutto di come giocare, molto narrativo, la componentistica è fatta bene. Ragazzi veramente se li devo dare un voto a un gioco del genere per la difficoltà ma soprattutto è nato prima il videogioco, no? Questo è il gioco da tavolo per come è stato riprodotto This War of Mine in gioco da tavolo, meglio di usare lo potevamo fare, detto sinceramente. Quindi per la prima volta li do voto veramente nove a un gioco da tavolo senza nemmeno né più né niente perché ha centrato l'obiettivo, cioè se uno che ha adorato il gioco del computer dicesse ma proviamo il board game, ma sai abbiamo già il gioco più il computer ma proviamolo per vedere se invece rende bene come ambientazione e ci divertiamo come al pc, forse si diverte anche di più qui, qui forse si diverte anche di più, cioè veramente veramente riprodotto da paura, quindi nove meritatissimo. Ragazzi in descrizione trovate come al solito i nostri link, se vi interessano Instagram, Facebook, il sito Maledetti Dadi dove pubblichiamo regolarmente recensioni, annunci insomma e quant'altro nel mondo dei board game e war game, quindi grazie davvero di cuore ragazzi che ci avete mandato un gioco che direi bellissimo e poco consigliatissimo e sempre in descrizione trovate il link per acquistarlo. Ragazzi è una figata, se vi è piaciuto il gioco per il computer, io ve lo dico sincero, questo mi è piaciuto di più, bellissimo, questo è this war of mine, è riprodotto fedelmente e forse uno dei board game più belli che mi ha fatto in vita mia e sicuramente uno di quei board game che fatta una partita magari è rosicato perché sei morto, hai perso, no, San Hunter che qui si muore molto facilmente, giustamente, però è un titolo che dà anche tantissime soddisfazioni. Quindi passate appena i voti e ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!